No, non facciamo un'integrazione, ma ci sarà, poi la vedrete, non vi dico che cosa, però ci sarà un modo, spero, accattivante per far capire che cosa diceva questo Svizzone. Questi sono le esercizioni importanti, diciamo. Sicuramente, questa Svizzone è un catalogo di vincitori di gare dedicate ad Augusto, perché a Napoli furono istituiti dei giochi in onore, isolimpici, cioè simili a quelli che si svolgevano ad Olimpia, in onore di Augusto. E quindi questo è un catalogo di vincitori degli agoni e ogni agone era dedicato, il vincitore lo dedicava ad una divinità. In questo caso troviamo anche gli imperatori divinizzati, quindi troviamo il divo Augusto e la diva di Ia. Un telegrafo ci ha preso in giro, perché non si possono fare a tutti. Va bene, poi seguito veramente perché vedete che vedete anche il pericolo altro.